Hello everybody da Steffiser, il Dio vivente, il cielo e il terra in una situazione molto critica, molto grave, che rimane ancora molto grave poi preciseremo quello che è importante adesso è che noi il presepe lo facciamo di grande gradimento al Cristo a Maria, soprattutto al Padre Onipotente e allo Spirito Santo e lo facciamo alla grande aggiungendo la colomba con i sacramenti propri dello Spirito Santo ci prepariamo al Natale a malincuore in una situazione critica ma sempre saldi nella fede